Oggi parliamo di uno dei più grandi calciatori non solo italiani della storia del calcio un personaggio che ha giocato in tante squadre eppure non ha lasciato rancore ha lasciato solo bei ricordi un grandissimo fantasista io ho scritto una canzone dedicata anche a lui che si chiama Il Fantasista è un protagonista, non a caso molti allenatori anche accecati dall'invidia lo hanno osteggiato, ha subito molte vessazioni da parte degli allenatori eppure loro sono spariti e lui è rimasto Roberto Baggio un grande del calcio